Ti sei già registrato all'Expo Cook? Certo, vuoi che manchi all'evento più cook e più dolce dell'anno? Ma hai sentito i grandi personaggi che ci saranno? Iginio Massari, Francesco Martucci, Enrico Porzio, Rocco Puzzulo, Mario Fiasconaro, Pino Scaringella, Don Antonio Starita. E questi sono soltanto alcuni degli oltre 500 tra chef stellati, maestri pasticceri e maestri pizzaioli. Fantastico! Ci vediamo dall'11 al 14 marzo alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, dalle 10 alle 18.30. Se la ristorazione è il tuo mondo, all'Expo Cook non puoi mancare! Per l'ingresso basta registrarsi sull'app ufficiale Expo Cook.